mercoledì 17 marzo marco 2022 marco giulio charlie e barbara siamo sul decollo da beppi 850 metri borso del grappa treviso bassano del grappa praticamente che qua a due passi pronti a fare questa bellissima esperienza di parato invio il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito I'm pretty sure it's one, you'll change your life, nothing won't be lost if you die, so deep into my heart. Fatti Zipe, tira fuori le braccia da qua. Dai, di qua, di qua. Quella, grazie.